Salve a tutti e ben ritornati per questo nuovo video, oggi voglio mostrarvi una partita molto istruttiva giocata da Magnus Carlsen il quale sta raggiungendo i livelli strepitosi nel gioco veloce, sta ormai a 3300 su chess.com stasera c'è il title Tuesday, potrebbe salire ulteriormente Magnus Carlsen mostra al mondo come si gioca a scacchi e anche agli esseri umani, lui non è più un essere umano prima di iniziare vi ricordo di mettere un mi piace e iscrivervi al canale, grazie a tutti e voglio salutare Michele che so che si è appena laureato, quindi auguri per la laurea so che fino a 7-8 anni fa meno di un italiano su 10 erano laureati, quindi la laurea è comunque un titolo prezioso complimenti ancora e in bocca al lupo per il tuo futuro, ciao ragazzi, iniziamo ok eccoci qui, ultima partita giocata da Magnus Carlsen su chess.com secondo me è un capolavoro, partita che dura poche mosse l'avversario si blocca, non sa cosa fare e abbandona Carlsen apre con D4 l'avversario è un maestro internazionale, The Mandalorian ha 3000 punti, quindi è un ottimo giocatore gioca cavallo F6 Carlsen continua con C4 segue E6, cavallo C3 pedone D5 il nero non se la sente di giocare la Nimzo indiana ma gioca D5 ci sta, Carlsen cattura segue pedone per D5 alfiere in F4 Carlsen è molto solido, non perde tempo non gli lascia neanche il pedone, cattura si crea subito questa struttura pedonale dove Carlsen ha la minoranza sul lato di donna, però qui si gioca l'avversario gioca alfiere D6 la mossa migliore, Carlsen cattura l'alfiere donna per D6 pedone in E3 segue a Rocco il nero mette real sicuro e Carlsen sviluppa l'alfiere in D3 pedone C6 per il nero Carlsen gioca H3 mi piace tanto questa partita perché è una parità dove Carlsen mette in mostra il suo stile di gioco se c'è da cambiare un pezzo non ha paura di cambiarlo quindi non ha paura di semplificare la posizione perché tanto lui pensa che il gioco degli scacchi è complicato anche se rimangono pochi pezzi sulla scacchiera e vinco lo stesso sono più forte l'avversario sviluppa la torre su una colonna semi aperta torre 8 Carlsen gioca donna C7 crea la batteria alfiere e donna attacca in H7 cavallo D7 per The Mandalorian e Carlsen sviluppa il cavallo in F3 arriva cavallo F8 a Rocco cavallo G6 bene Carlsen qui ha giocato l'apertura in maniera perfetta tuttavia anche l'avversario ha fatto la stessa cosa non ci sono stati trucchi nessuno dei due ha attaccato quindi i due si stanno posizionando Carlsen gioca torre B1 è qui che Carlsen inizia a fare impressione torre B1 la mossa migliore prepara B4 vuole giocare il cosiddetto attacco di minoranza alfiere in E6 per il nero Carlsen gioca B4 segue torre C8 torre C1 vedete ora il gioco si sposta sul lato di donna ma attenzione perché tra poco la posizione sta per esplodere il nero ritira la donna in D7 ha idee come alfiere per H3 dato che ha due cavalli che poi dopo possono contribuire all'attacco Carlsen salta con il cavallo in G5 segue cavallo in F8 perché Carlsen salta con il cavallo in G5? secondo me perché intanto difende H3 e inoltre attacca l'alfiere in E6 l'avversario qui gioca addirittura la mossa migliore e Carlsen salta con il cavallo in A4 ora dopo questa mossa vuole giocare cavallo G5 e su B6 indebolirebbe il pedone in G6 quindi segue donna E7 cavallo G5 arriva e l'avversario qui gioca H6 inspiegabilmente gioca H6 è vero che il bianco stava minacciando alfiere per H7 però per ora era tutto difeso e tra l'altro qui c'è questo pedone in B7 sotto attacco ma è difeso dalla donna tuttavia vediamo cosa succede Carlsen ritira il cavallo in F3 la mossa migliore secondo il motore era di catturare ma va bene pure questa l'avversario gioca cavallo D7 ecco un 3003 che va completamente in tilt in questa posizione perché cavallo D7 e beh stai lasciando in presa il pedone in B7 quindi l'avversario sa che gioca contro Magnus Carlsen si innervosisce va sulla difensiva e sbaglia arriva l'errore cavallo per B7 Carlsen guadagna un pedone l'avversario salta con il cavallo in E4 segue cavallo in C5 ok in questo caso si può catturare questo cavallo in E4 per guadagnare un pedone? non proprio Carlsen questo lo capisce subito non può catturare perché dopo pedone per donna per E4 arriva cavallo F6 con attacco sulla donna il bianco perde un pezzo strepitoso direi e in questa posizione Carlsen appunto ritira indietro il cavallo in C5 guardate che comprensione del gioco segue cavallo per C5 pedone D per C5 e l'avversario gioca a donna in F6 Carlsen ha un ottimo vantaggio più due di vantaggio è tanto qui però sta calmo mantiene la calma continua con cavallo D4 attacca l'alfiere qui già sta attaccando in E4 l'avversario ritira indietro l'alfiere in D7 Carlsen spinge il pedone in B5 sul lato di donna l'avversario cattura e dopo una mossa qui l'avversario decide di abbandonare ovvero dopo pedone in C6 voi direte ma come cavallo si fa ad abbandonare in questa posizione? ora la analizziamo quindi Carlsen impiega esattamente 51 secondi per vincere questa partita impressionante e i calcoli che ha fatto sono calcoli profondi già il fatto di non aver catturato il cavallo in E4 è tanta roba ma vediamo qui come si potrebbe evolvere la situazione cosa deve fare il nero? il nero ha un pezzo in presa secondo il motore deve giocare alfiere F5 oppure giocare alfiere per H3 vi dico già che su alfiere per H3 non c'è assolutamente nulla si cattura il pezzo se la donna prova a dare scacco si può venire in H2 e su scacco si può anche alzare il pedone in F4 qui il bianco ha semplicemente un pezzo in più ok allora dopo C6 sarebbe molto interessante capire cosa succede ad esempio su torre di D7 perché se catturo perdo la donna giusto? si perdo la donna però posso catturare posso catturare in D7 perché questo? perché dopo torre per D7 vado a promozione con scacco ecco questo mi stupisce Carlsen in pochissimi secondi riesce a calcolare tutta sta roba ed è sempre l'avversario che sbaglia ora uno potrebbe dire come fa a sapere che ha calcolato? e beh intanto l'ha capito l'avversario che ha abbandonato in quella posizione scusate se l'avversario qui abbandona significa che già l'avversario ha visto sta roba figurati se non l'ha vista Carlsen allora perché non giocare torre in D8? e beh di nuovo torre D8 qui si può o catturare in E4 oppure giocare torre per B5 il motore le suggerisce entrambe cioè vanno bene entrambe anche alfiere per questa e qui si può catturare in B5 oppure giocare donna per E4 un vantaggio netto per il bianco qui cosa può fare il nero? il nero può salvare a questo punto l'alfiere esatto però qui possiamo spingere e dopo torre in D7 possiamo semplicemente catturare in B5 il problema del nero è che non può catturare il pedone in C7 perché deve stare attento anche a un eventuale scacco matto del corridoio quindi su torre per C7 segue torre per torre per arriva torre in B8 scacco qui torre C8 catturo alfiere per C8 scacco guadagno un pezzo ragazzi è una partita corta una partita strepitosa giocata da Carlsen dove vediamo un po' gioca al 95.3% di precisione non sta mai peggio 3500 gli dà come punteggio e l'avversario ha giocato da 2950 io penso che un Magnus Carlsen che gioca in questo modo non può perdere a scacchi poi sappiamo tutti abbiamo alti e bassi ma se dovesse giocare così questo è lo stile perfetto di giocare a scacchi quindi cambiare pezzi essere solidi se l'avversario sbaglia punire l'avversario se l'avversario non sbaglia finirà in parità però intanto io non perdo Carlsen ragiona in questo modo invece c'è che anche lo stile di gioco tattico però un tattico rischia tantissimo rischia tanto e perde tanto Tal ad esempio era uno che perdeva tante partite tanti sacrifici che faceva Tal erano comunque scorretti però per un essere umano erano difficili tuttavia Tal è amato è amatissimo dalle persone e viene considerato un genio io pure lo considero un genio Tal aveva un gioco bellissimo ma non tutti quelli che sono giocatori tattici sono come Tal cioè giocano molto peggio di Tal e quindi sono giocatori che poi si ritrovano a perdere un sacco di partite secondo me lo stile di gioco migliore in assoluto è quello che ha Carlsen tuttavia se mi chiedete come si fa a replicare lo stile di gioco di Carlsen no è veramente troppo difficile perché lui ha una conoscenza teorica immensa e poi dopo applica questo stile di gioco in questo modo però giocato con precisione se devo cambiare un pezzo cambio ma io so che quella è la mossa giusta insomma ragazzi dai su non è facile andate su wikipedia cercate Carlsen c'è scritto il mozart degli scacchi grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere un mi piace iscrivervi al canale ciao alla prossima ciao